Il nostro telegiornale parte il 12 dicembre venerdì lo sciopero generale sulla strada e quindi partiranno lo sciopero per quanto riguarda la Will e la CGL al centro delle proteste saranno il Jobs Act, la legge di stabilità non soltanto ma anche le politiche economiche del governo Il generale del 12 dicembre state riscaldando i motori e sono tanti gli ostacoli da battere perché l'Italia riprenda a camminare perché così com'è non va Noi abbiamo aderito lo sciopero abbiamo programmato lo sciopero nazionale per queste prese di posizione del governo che non siamo d'accordo non ci soddisfano e siamo convinti che tutte queste operazioni non portano a quello che noi pensiamo noi pensiamo che c'è l'esigenza di uno sviluppo un'esigenza di aumentare i posti di lavoro invece siamo convinti che diminuiscono i posti di lavoro con questi perché quando si taglia e quando si fanno operazioni di questo genere si riducono i posti di lavoro e aumenta la disoccupazione un'altra cosa che non condividiamo è il discorso degli ammortizzatori sociali noi abbiamo l'esigenza con una percentuale di disoccupazione così alta di mantenere gli ammortizzatori sociali finanziati e con le caratteristiche delle leggi già esistenti perché le nuove proposte portano a una riduzione enormemente della spesa sugli ammortizzatori sociali e in particolar modo quelli in deroga e non come la 223 la mini Aspi l'Aspi che sono quelli che ho in questo momento che da poco tempo sono stati fatti almeno la legge Fornero quando sono tre anni non più di tanto un ammortizzatore sociale ancora in tre anni dobbiamo sperimentarlo in modo definitivo noi stiamo facendo una battaglia che per la verità su questi temi abbiamo condotto anche quando al governo c'era Berlusconi quando si è voluto toccare i diritti dei lavoratori la CGL non ha guardato quale colore politico avesse il governo e diamo anche a questo governo lo stesso trattamento devo dire che su questi temi proprio perché sono temi squisitamente sindacali che torcano la carne viva della gente abbiamo anche l'adesione della Will quindi non è solo un problema che riguarda la CGL e speriamo in futuro di recuperare anche la presenza della CGL perché su questi temi c'è l'unità del mondo del lavoro ed è bene che ci sia anche l'unità delle tre organizzazioni sindacali il caso Openland se torna a parlare anche perché il PM hanno chiesto che tutti gli imputati vengano assolti vediamo perca I pubblici ministeri Andrea Palmieri e Tommaso Pagano hanno concluso la loro requisitoria al processo scaturito dalla vicenda cosiddetto Openland legata a presunte pressioni per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione del centro commerciale nell'area fieristica delle Pipoli nell'udienza del processo che si sta celebrando con il rito abbreviato davanti al GUP del Tribunale Andrea Mignieco i due rappresentanti e la pubblica accusa hanno chiesto la soluzione per tutti gli imputati perché il fatto non sussiste i due PM in buona sostanza hanno concluso il proprio lavoro di approfondimento del caso ritenendo che non vi sia la sussistenza degli indizi di colpevolezza e nemmeno quindi degli elementi per l'avvio dell'azione giudiziaria a carico dell'ingegnere Natale Borgione nella qualità di allora dirigente dell'ufficio urbanistica del comune di Siracusa dell'ingegnere Vincenzo Trigilia funzionario capo del servizio del geometra Raffaele Gallo tecnico istruttore e di Emanuele Serra i quattro imputati il quinto Corrado Gianna ha scelto di essere processato con il rito ordinario anche se è probabile una richiesta in estremis per optare anche egli per questo abbreviato a vario titolo devono rispondere di tentata concussione dai danni dei titolari dell'impresa che chiedeva il rilascio di autorizzazioni alla costruzione del centro commerciale adesso la parola passa ai legali e la parte civile che il 16 dicembre prossimo proveranno a confutare la tesi del 2 PM toccherà invece la difesa in occasione dell'udienza fissata per il mese di gennaio prossimo La cronaca gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Pachino hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cinquantenne residente a Pachino lo vediamo nelle immagini Paolo Iacono 50 anni dovrà scontare adesso un residuo di pena di 4 anni 6 mesi e ancora 3 giorni oltre a pagare una multa di 8 mila euro per reati inerenti agli stupefacenti ma anche sta proseguendo l'operazione cosiddetta Trinacria sempre il commissariato della polizia di Pachino e ieri durante un servizio particolare di controllo 55 persone controllate 51 veicoli e 2 sanzioni amministrative Continua in attesa dell'arrivo del corpo di Santa Lucia in città il percorso delle sue reliquie per le sedi e le forze di polizia siracusana e questa mattina erano nella sede provinciale dei carabinieri Un momento importante Santa Lucia nella sede dei carabinieri voi per Antonomasi i carabinieri sono vicini alla gente in questo caso siete vicini alla patrona della città Sì è un momento importante per Siracusa per i suoi abitanti ed è molto significativo per noi poter ospitare le reliquie nella nostra sede con una funzione che verrà ufficiata la sua eccellenza arcivescovo Pappalardo questo non sarà solo un momento di riflessione dei carabinieri un momento spirituale dei carabinieri ma è aperto alla popolazione perché dalle 11.30 alle 12.30 e poi dalle 15.30 le 17.30 le reliquie saranno qui in esposizione per tutti coloro che volessero venire a pregare o a raccogliersi per una supplica in un termine che potrebbe apparire blasfemo ma non è così in Santa Lucia le reliquie stanno facendo un bel approccio tour de force tra le forze di polizia di Siracusa il senso di questo genere di visita qual è? ma senti innanzitutto io la metto in un contesto è tutta la città che sta preparandosi a celebrare non solo la memoria liturgica il 13 di dicembre quindi la memoria di Santa Lucia ma anche si sta preparando ad accogliere le reliquie che vengono costruite a Venezia e quindi questo andare peregrinando in fondo è come se Santa Lucia si rendesse presente nella casa di tutti i siracusani e ovviamente in queste sedi che sono rappresentative qual è insomma oggi la sede qui il comando provinciale dei carabinieri noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ci rivediamo subito dopo per la seconda parte vi aspettiamo allora telecamera riesci a vederla? si si è davanti a un negozio bella vero? e poi è bella anche dentro ha stile e guarda che cromature cromata? ma chi? la ragazza? ma va io parlavo della nuova Yaris ti sei innamorato di un'auto ma non è un po' strano e perché c'è una telecamera che parla non è ancora più strano? scopri la nuova gamma Yaris geniale come sempre trendy come non mai oggi è tua da 10.250 euro Autosport concessionaria Toyota Contrada Tarja Siracusa Autosport e anche Opel Plastic Home Shop per questo Natale vi presenta una vasta gamma di soluzioni di macchine confezionatrici e migliaia di articoli per ogni esigenza di imballaggio e confezionamento tutto per bar pasticceria panifici ristorante e pizzerie e negozi in genere packaging monouso sia in carta che in plastica novità Shoppers Bio e ampia gamma di prodotti ecosostenibili della linea Tu Si Bio il tutto in pronta consegna presso il cash and carry di Città Giardino Plastic Home Shop in via Garrone 5 a Città Giardino aperto da lunedì al sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 13 unico in Sicilia da 20 anni sempre presenti oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta oggi da Scavolini Store Siracusa ti aspettiamo con un'imperdibile offerta acquista la tua cucina Scavolini poi ti regaliamo un frigorifero Samsung e la paghi in 20 rate a interessi ZEC Scavolini Store Siracusa via Scala Greca 381 Entra nel mondo Gemar Supermercati Gemar una vasta gamma di prodotti di marca ai prezzi più bassi della città Cerca il punto vendita più vicino a te una residenza sanitaria assistenziale nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante assistenza sanitaria diurna e notturna servizio alberghiero assistenza sanitaria medica e infermieristica attività riabilitative ricreative e culturali convenzionata con il servizio sanitario nazionale due strutture specializzate per il tuo recupero RSA Scala Greca via Scala Greca 406 barra A Siracusa RSA Anni d'Oro Contrada Spalla Città Giardino Melilli Info 0931 75 65 06 o 76 17 38 l'assistenza che cercavi ben trovati alla seconda parte del nostro telegiornale si è occupato prevalentemente di tutela dei diritti umani ma anche e soprattutto di stato di diritto stiamo parlando dell'ISIC l'istituto superiore internazionale di scienze criminali con sede a Siracusa questa mattina un consultivo della 2014 un anno di attività ancor più l'ISIC ha puntato sulla legalità e sulle questioni legate anche alla tutela dei diritti umani sì un altro anno importante con una grande partecipazione di esperti in diritto e in tutela dei diritti umani in campo internazionale anche quest'anno l'ISIC si è contraddistinta per la qualità e per l'importanza della sua attività scientifica mi piace ricordare che anche il 2014 è stato l'anno dell'assegnazione del premio al migliore studente internazionale con tesi di laurea in tutela dei diritti umani che ogni tre anni viene assegnato e porta proprio il nome di Siracusa si chiama Siracusa Prize cioè premio Siracusa quest'anno è stato assegnato durante il congresso dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale in Brasile e quindi ancora una volta il nome di Siracusa della città di Siracusa va come simbolo della tutela dei diritti umani in giro per il mondo un altro aspetto che mi piacerebbe sottolineare è quello non solamente dell'attività scientifica in quanto tale ma è quello del ritorno sul territorio della economia che produce l'istituto a riprova che con la cultura si mangia e non è vero che con la cultura non si mangia quando le città portano e puntano su istituti scientifici di alto profilo ne hanno anche un ritorno immediato quest'anno abbiamo potuto contabilizzare materialmente il ritorno sul territorio delle economie portate dall'ISIC con chiaramente l'ospitalità di tutti gli esperti di diritto che si sono succeduti nell'anno e queste risorse ammontano oltre un milione e centomila euro credo che sia un dato di grande significato che ognuno di noi deve sapere apprezzare torna la manifestazione madre terra per un'alimentazione corretta legata soprattutto allo sfruttamento dei prodotti naturali noi abbiamo parlato con Carmelo Maiorca, fiduciaro di Slow Food torna a Siracusa non soltanto il terra madre dei una giornata in cui si diventa consapevoli dei prodotti e la terra di come e quali siano i migliori, quali siano quelli non dannosi e tu diventi in questa occasione Carmelo Maiorca una sorta di pubblicità vivente della terra non siamo dalle parti di Pirandello l'uomo dal fiore in bocca ma il giornalista dalla spiga tra le labbra perché? uno perché mi presto a queste farse che facciamo insieme l'altra è perché il terra madre dei, questa manifestazione annuale organizzata in tutto il mondo da Slow Food il 10 dicembre a Siracusa come in altre città della Sicilia abbiamo voluto in particolare dedicarla agli antichi grani autoctoni cioè varietà diffuse nel nostro territorio però purtroppo a rischio di estinzione la spiga che ho tenuto in bocca è di varietà russello ma all'agrario, all'istituto agrario stamattina abbiamo parlato anche della Cicired che era una varietà per fare in particolar modo biscotti il maiorcone utilizzato per i dolci, la timilia che è un grano scuro e tante altre questi prodotti insieme a varietà di olive, di mandorle ed altro ancora che rischiano purtroppo di scomparire Slow Food imbarca idealmente nell'arca del gusto un grande catalogo con specie animali, specie vegetali, prodotti di trasformazione di tutto il mondo questo è il primo appuntamento, l'abbiamo organizzato appunto all'istituto agrario è stato molto interessante con i ragazzi di quella scuola che andrebbe meglio valorizzata nel pomeriggio è prevista la presentazione di Osterie del Ricette di Sicilia che è un repertorio di cucina siciliana edito per l'appunto da Slow Food Editore questo qua è un periodo in cui molto si parla anche polemizzando di OMG quindi diciamo che il giorno della terra in qualche maniera vuole sottolineare quanto sia importante comunque fare un uso consapevole dei prodotti della guerra un uso consapevole, vario, legato il più possibile alle culture e consuetudini locali e indubbiamente anche una produzione di cibo sano che parta da pratiche agricole come si suol dire oggi sostenibili il che non sarebbe manco difficile se si mettesse un po' di chimica in meno nella terra e di conseguenza nel piatto Adesso lo sport, il Siracusa anticipa nel pomeriggio la partitella contro la Juniors per prepararsi alla gara di sabato definita adesso in un momento una gara difficile e impegnativa Il Siracusa chiuderà Masca Lucia contro la Sampio Decimo il gerone d'andata del campionato di eccellenza la gara contro gli Etnesi disputerà al Buonaiuto Somma sabato 13 dicembre proprio in occasione della ricorrenza di Santa Lucia alle ore 15 è prevista quindi per oggi la consueta partitella contro la formazione Juniors di Mr. Gaetano Favara seduta in programma al Giorgio di Bari di Via Lazio al termine della sessione di allenamento a presentarsi in sala stampa è stato il centrocampista Fabio Arena uno dei tanti ex del Sampio Decimo stiamo bene fisicamente contro i Rosalini abbiamo fatto un gran secondo tempo e abbiamo meritato la vittoria detto Arena sabato sarà una gara difficile ma come un po' tutte le sfide che ci attendono da qui al termine del campionato cerchiamo i tre punti per continuare il filotto di successi non pensiamo alla sfida di Scordia in testa abbiamo solo il match di sabato vogliamo chiudere in bellezza dice ancora Fabio Arena il girone è d'andata adesso un breve salto nella memoria nel bianco e nero del Siracusa si è andato infatti un altro pezzo di quel settennato in Serie B ma è più raggiunto si è spento infatti ieri a 96 anni il professor Dandolo Flumini che nella stagione 46-47 indossò la maglia del Siracusa Flumini è ricordato da tutti lo vediamo nelle immagini in quel suo periodo d'oro perché è stato il secondo marcatore del Siracusa in Serie B grazie alla terza rete segnata nel 46 era laureato in fisica fu anche professore di matematica allenò anche il Canicattini e la Nettini è stata adesso apriamo una pagina delicata agli avanti dei motori ma non soltanto perché è stata presentata si accusa la Fiat 500X il crossover che vuole entrare a pieno titolo nel mercato automobilistico non soltanto italiano presentazione ufficiale ieri sera alla concessionaria di contrada a spalla della nuova Fiat 500X per la crossover parte il prelancio vale a dire un tour che la sta portando in sei piazze italiane e oltre 170 concessionarie Fiat disseminate sul territorio l'iniziativa che si chiama The Power of X permette di toccare con mano l'auto prima del tradizionale porte aperte previsto per febbraio 2015 direi che questo è il momento del rilancio del gruppo Fiat del marchio Fiat in particolare è la primo crossover del classe SUV B è una vettura che viene prodotta interamente in Italia e quindi dà l'opportunità come dire a molti lavoratori di riprendere a lavorare perché questa è una vettura che ha una storia prodotta interamente nel centro Fiat nel centro stile Fiat disegnata e realizzata interamente da Fiat realizzata interamente in Italia è una vettura che profuma di tradizione profuma di storia ma direi anche di più direi che è un SUV che a ben guardarla ha del SUV ma ha anche dell'auto noi abbiamo un 4x2 è un 4x4 abbiamo la versione 4x2 che chiaramente hanno un uso si prestano più a un uso cittadino poi abbiamo la versione 4x4 che è più in effetti per un utilizzo off-road e partiamo da poco più di 17.000 euro per la versione torque con motorizzazione torque ma direi che la vettura veramente d'ingresso è quella che va dalla soglia dei 20.000 dai 20 ai 30.000 euro Bene, con questo ultimo servizio il nostro telegiornale si conclude noi vi auguriamo un buon proseguimento di programma Grazie a tutti Grazie a tutti